Qualcuno di voi mangia i grisby? No, ok, non sono popolari. Teoricamente, questo è un marchio, magari non lo conoscete, ma che cos'è? I biscotti, non male, che però ho avuto sempre il target famiglia, il classico biscotto che tu hai a casa, anche un po' goloso, per il dopo pranzo, la domenica. Cosa hanno fatto? Quando io mi dico pranzo della domenica, qual è la prima sensazione che vi viene in mente? La nonna, la pienezza, la dormitina. Ecco, loro ci hanno fatto il kamasutra. Cioè, io, un prodotto che vendo alle famiglie che comunque me lo consumano il pomeriggio per fare merenda, ci faccio il kamasutra, il massacro. Quindi, che cos'è un social media fail o epic fail? È quel momento in cui viene generata la rottura fra il brand e l'utente perché viene tradita la fiducia comunicativa.